e per l'attenzione di questo nuovo video oggi siamo in the ital lover game sarebbe tipo il gioco quale è stato più cercato su google o su youtube comunque su internet in generale credo non sono il primo farlo lo conoscerete in 300 miliardi di trilioni di triliardi però non ho mai fatto video su sto gioco ci giocherò ogni tanto quando 5 secondi la mia vita da buttare e ho detto perché non farci un video così almeno mi riempio il buco del canale bene classico è più famosa la croazia o il transgender bene a coroni coronzi non croazia ma quanto sono mongoloide ah raga sono dislessi quindi non posso beh credo di meno questi eh decisamente di meno eh più famose transgender o la tromba credo i transgender esatto Everton è una squadra di calcio credo più famose sì decisamente più famose di una tromba luxury hotel credo di meno perché non credo che un hotel in generale venga cercato quanto una squadra infatti quanto una squadra domenica repubblica domenicana di più di più di sicuro the walking dead è una gran serie tv credo di più sì a voglia vado raga water hide non mi ricordo cosa vuol dire tipo siccità o roba del genere non so però comunque di meno ne sono abbastanza sicuro doctor who è una serie tv abbastanza abbastanza famosa brasile secondo me di più di meno no che fail eh la tesla o i blood diamond credo la tesla di sicuro walking dead cool runnings non so cosa si ma secondo me di meno cioè di sicuro di meno ah della volte disney lady gaga di più owen heart sembrerebbe tipo un restaurant o roba del genere però di meno la deforestazione direi di più sì perché c'è sempre almeno quella un po' più cercata toronto maple leaf leaf dovrebbe la squadra credo di ok di toronto credo o comunque di uno sport e credo che sia cercata un po' di più yes mark zuckerberg l'inventore di facebook credo di più sì non di tanto però eh non di tantissimo power puff girl di meno sì the glass castle credo sia non so o roba del genere di più comunque 40.000 è tipo uno dei più bassi home in su rines non so cosa voglia dire perché in inglese faccio schifo ma secondo me di meno yes pittsburgh penguins scoda di ok di più south age party è un film però credo di meno eh si muori più o meno cioè manca ancora però sweps di meno perché di solito la gente se le compra non le va a cercare yosemite national park di più non di tanto però di più mount everest di più il più famoso l'everest dell'yosemite di meno cacchio di più va bene è arrivato il 19 pomeranian o persone scomparse adesso me lo dici in italiano brutto schifoso comunque di più i cani perché i cani fanno views i cani piacciono le torture non credo siano cercate quanto i cani io se mai ti abbiamo detto di più ma non di tantissimo hold traford di meno vado a occhio raga austerity di meno cacchio di più ci sono delle cose che non die hard è un film però di meno subway di meno porco schifo no abbiamo capito che vince su tutti pantera che bello sto cartone raga simen samurai di meno yes dai l'obiettivo del video è arrivare ai 20 comunque superare il punteggio massimo scooby doo di più ah voglio scooby doo raga è una leggenda milan di meno di più cacchio pensavo che dettore il milan una squadra del genere cioè in senso una squadra italiana va bene le squadre proprio nazionali non da squadra italiana non pensavo così tanto alberghi a 5 stelle di meno non so chi tu sia ma secondo me fai più viso di hotel a 5 stelle madman una serie tv di più neanche tanto perché comunque madman è una serie abbastanza famosa ma comunque ha generato veramente poco general motors meno se fallisco stavolta stacco raga perché se no non ci capisco più niente mozart meno di più cacchio niente raga io vi saluto vi invito a passare in la descrizione lasciare like iscrivetevi al canale da giusto è tutto ciao a tutti bella iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale